Noi di AndroTeam siamo sempre molto attenti a utilizzare la tecnologia più innovativa, quella di ultima generazione, per proporre ai nostri pazienti il meglio e il massimo delle innovazioni a disposizione. Con questa premessa che abbiamo trovato nella terapia ad onde d'urto, una delle risposte più innovative, più tecnologicamente avanzate relativamente alla terapia del deficit erettile. Il deficit erettile è un problema molto diffuso, le terapie da molti anni sono ormai note a tutti, le famose pastiglie che sono in grado di gestire la maggior parte dei problemi di impotenza, ma la terapia farmacologica ha il difetto di non essere del tutto curativa, cioè non riabilita completamente la muscolatura del pene e consente un ritorno alla normalità, tra virgolette. E allora negli ultimi anni la tecnologia ha sempre cercato qualcosa per andare più in profondità rispetto alla gestione dei sintomi, ma cerca di curare la patologia. Le onde d'urto si inseriscono in questo tipo di concetto, cioè le onde d'urto tentano di ripristinare la qualità del tessuto erettile permettendo alla persona che ne ha fatto utilizzo di ritornare ad un ringiovanimento, di una rigenerazione del tessuto che aveva perso o stava perdendo. La storia delle onde d'urto in urologia è in realtà antica, per così dire, nel senso che è una tecnologia utilizzata già a partire dagli anni Ottanta per la cura della calcolosi urinaria. Infatti le onde d'urto sono state usate per il famoso bombardamento dei calcoli renali o ureterali fin dagli anni Ottanta. Veniva definita appunto litotrissia extracorporea, proprio perché queste onde d'urto di origine meccanica erano in grado di rompere un calcolo convogliate, focalizzate proprio nel punto in cui questo era presente. Negli anni il valore e i vantaggi della terapia con onde d'urto sono stati progressivamente studiati e questa tecnologia è stata applicata alla medicina fisica, riabilitativa, all'ortopedia, perché si sono scoperti via via degli effetti antinfiammatori e antidolorifici che sono stati appunto utilizzati nelle patologie muscoloscheletriche, la tendinite, la periartrite, scapolomerare, del gomito eccetera. Poiché la potenzialità curativa di questa tecnologia è stata evidente a molti personaggi nel mondo, la ricerca è continuata ed è anche andata verso il versante della patologia vascolare. Ad un certo punto, già negli anni 2000, è stato evidente come le onde d'urto potessero agire a livello vascolare contribuendo a ripristinare la qualità dei vasi sanguigni e a crearne di nuovi, la cosiddetta neoangiogenesi. Questo ad esempio è stato evidenziato con studi compiuti su ratti da un gruppo israeliano del dottor Vardi che è stato poi tra i primi ad applicare questa tecnologia in ambito appunto rigenerativo vascolare anche a livello del pene. Vardi scoprì che somministrando queste onde meccaniche a livello dei vasi sanguigni era possibile aumentare la densità di vasi sanguigni di un'area non più vascolarizzata. Ad esempio lui aveva fatto degli esperimenti sulle cavie nelle quali causava un infarto miocardico occludendo una coronaria e poi somministrando le onde d'urto in effetti la capacità di rivascolarizzazione di questa tecnologia era particolarmente evidente. Quindi con questo approccio è stato poi a partire da una decina di anni fa circa applicato il concetto delle onde d'urto alla deficit erettile. Con che presupposti? Col presupposto che il deficit erettile nella maggior parte dei casi è un problema di tipo vascolare cioè i vasi sanguigni per mille fattori di rischio che non è il caso di analizzare in questo momento, ma mille fattori di rischio possono portare ad una riduzione del flusso sanguigno e di conseguenza una minor tenuta o un minor vigore dell'erezione. Le onde d'urto sono delle onde meccaniche che quando vengono focalizzate sul tessuto erettile sono in grado di creare la cosiddetta neoangiogenesi cioè promuovono la creazione di nuovi vasi sanguigni e questo avviene grazie al fatto che l'onda d'urto stimola sui vasi sanguigni la produzione di una serie di fattori di crescita di tipo endoteliale vengono definiti che hanno la funzione di attivare una cascata di eventi che porta all'aumento di densità dei vasi sanguigni e ad una riparazione, una rigenerazione del tessuto dei vasi sanguigni alterati. Questo si concretizza evidentemente in un maggior afflusso di sangue al pene, quindi una maggior quantità di sangue che entra all'interno dei corpi cavernosi e quindi partecipa a creare una erezione molto più rigida rispetto al nostro punto di partenza. Quindi nel tempo le onde d'urto sono state studiate anche dal punto di vista fisico per raffinarne le caratteristiche, le modalità di erogazione, la focalizzazione eccetera. A noi non basta applicare delle onde d'urto al pene per promuovere questi effetti ma dobbiamo focalizzarle in punti precisi, dobbiamo permettere a queste onde d'urto di non essere, di non arrivare troppo in profondità nei tessuti ma di arrivare ad un certo livello di penetrazione e soprattutto l'intensità di queste onde è importante per innescare la reazione di neoangiogenesi. Quindi proprio dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista fisico è importante dotarsi di un'apparecchiatura che per capacità di focalizzare le onde, per capacità di penetrazione, per capacità di intensità e di frequenza delle onde sia in grado di ottenere un equilibrio tra tutti questi parametri in grado di innescare in modo efficace questa riparazione, questa cascata biochimica di eventi. Per questo motivo noi abbiamo scelto appunto di utilizzare la macchina Storz Duolit che mette insieme i concetti che ho esposto fino a questo momento e ci permette di focalizzare delle onde d'urto a bassa intensità nelle zone del pene che favoriscono l'innesco di questa reazione di neoangiogenesi. Passando poi alla parte pratica quindi quando utilizziamo di fatto nella nostra pratica clinica andrologica le onde d'urto a bassa intensità. Facciamo l'esempio del classico paziente che arriva in consulenza con un deficit erettile. Allora innanzitutto nostra pratica è come consigliato dalle linee guida internazionali, effettuare un'anamnesi molto approfondita e valutare la storia clinica del paziente. Soprattutto è importante capire di fronte a un paziente che ci viene a chiedere una consulenza sulla problematica di impotenza che cosa è stato già fatto sia a livello strumentale diagnostico che anche a livello terapeutico perché questo ovviamente per noi è uno step fondamentale per decidere quale miglior approccio terapeutico utilizzare. Questo per farvi capire che l'onda d'urto non viene utilizzata almeno nel nostro studio in maniera indiscriminata per tutti i pazienti ma per una specifica diciamo fetta di pazienti affetti da deficit erettile che però è abbastanza larga nel senso che l'esperienza e anche quello che sono gli studi internazionali hanno fatto vedere di fatto che possono beneficiare di questo tipo di trattamento diverse tipologie di paziente. Sicuramente quello più classico, più indicata questa terapia è il cosiddetto paziente naif per qualsiasi tipo di trattamento, cioè il paziente che ha una prima diagnosi di deficit erettile che non ha provato nessun tipo di trattamento per esempio farmacologico, i classici diciamo inibitori delle fosfodiesterasi, vasodilatatori e quindi in questa categoria di pazienti effettivamente un'indicazione al trattamento dell'orto d'urto a bassa intensità può essere corretto e può dare degli ottimi risultati. L'altro paziente tipo che può beneficiare di questo tipo di trattamento invece è il paziente che ha già provato i trattamenti, tipicamente il primo livello, il primo step di terapia medica che sono appunto i vasodilatatori orali, gli inibitori delle fosfodiesterasi 5 e che magari per un certo periodo come tipicamente avviene in questi pazienti nella loro storia clinica ha funzionato e poi da un punto di tempo, mesi, anni non funziona più. Quindi sostanzialmente io individuerei due categorie di pazienti a cui possiamo dare un'indicazione corretta a questo tipo di trattamento. Quindi prima diagnosi, i pazienti che non hanno mai provato assolutamente nessun tipo di trattamento e anche i pazienti che invece hanno già assunto un trattamento farmacologico ma che tendono a non rispondere più a questo tipo di trattamento. Allora, quando e come muoversi, cioè esiste una categoria di pazienti che può con maggior probabilità rispondere a questo tipo di trattamento. Allora diciamo che l'indicidenza di risposta positiva è intorno all'80%, quindi una buona fetta dei nostri pazienti andrà a rispondere, ma questo ovviamente è collegato anche alla corretta indicazione. Cioè se noi individuiamo correttamente il paziente che con maggior probabilità per caratteristiche cliniche potrà rispondere a questo tipo di trattamento, ovviamente il tasso di soddisfazione può vai a salire. E a noi quali sono gli elementi fondamentali? Innanzitutto i fattori di rischio, cioè il paziente che ha fattori di rischio cardiovascolari, forte fumatore, che assume molti farmaci, che ha avuto diciamo patologie cardiovascolari, come per esempio dei progressi infarti, ovviamente avrà delle probabilità lievemente minori di poter ottenere un successo di trattamento. Ma noi personalmente tendiamo a fare uno screening, cioè a capire quale paziente può rispondere meglio alle onde d'urto rispetto ad un altro con un esame strumentale che viene fatto sostanzialmente in loco, che è il cosiddetto ecodoppler penieno dinamico. C'è un'ecografia che permette di studiare la struttura del pene, la vascularizzazione del pene, soprattutto la vascularizzazione cosiddetta effettiva, efficace. Nel senso che la dinamicità dell'esame sta nel fatto che viene indotta di fatto una reazione farmacologica e durante le varie fasi dell'erezione si studia la risposta vascolare. Abbiamo notato nella nostra personale esperienza che quei pazienti che hanno un pattern di danno vascolare, microvascolare, quindi nelle caverne del corpo cavernoso, che sono sostanzialmente delle strutture spognose che dovrebbero dilatarsi accogliendo il sangue all'interno e indurre una perfetta reazione, là dove c'è una dilatazione cosiddetta incompleta c'è una maggiore associazione in soddisfazione di risposte, quindi miglior risultato nel trattamento con le onde d'urto. Quindi per noi questo è uno step abbastanza fondamentale che consigliamo a tutti i pazienti perché ci permette sostanzialmente di dare più garanzie di una corretta indicazione, una miglior risposta e tasso di soddisfazione da parte del paziente. Quindi questo è estremamente importante. Allora su quello che noi discutiamo sempre col paziente un altro fattore estremamente importante è l'effetto della durata. Cioè le onde d'urto quanto tempo ci mettono a dare effetto e soprattutto quanto dura questo effetto. Un effetto long life per tutta la vita, un effetto per un certo periodo determinato. Allora qui ci vengono un pochino incontro gli studi scientifici che sono adesso ampiamente pubblicati nella letteratura e ci dicono che sostanzialmente il picco di risultato si ha circa un mese dalla fine del trattamento. Dopo le sei sedute di trattamento a un mese si ha il picco. Però effettivamente nella nostra esperienza è un picco progressivo. Cioè già le prime sedute fanno vedere solitamente quando c'è un trend positivo quindi un piccolo miglioramento progressivo fino a raggiungere effettivamente l'apice ad un mese. Sulla seconda domanda, che questa è estremamente importante, quanto dura il trattamento? Beh, ovviamente è una tecnologia abbastanza recente quindi non abbiamo degli studi oltre 10, 15, 20 anni. Quindi su lunghissimo termine non sappiamo garantire al paziente il risultato. Però quello che possiamo dire è che ad oggi, ad un anno, quasi più dell'85% dei pazienti mantiene un buon risultato. Poi tendenzialmente progressivamente ovviamente un piccolo numero inizierà a ridurre gli effetti. La cosa estremamente importante che sottolineo è la possibilità di ripetere il trattamento. Cioè il gran vantaggio delle onde d'urto è che è un trattamento che non dà nessun tipo di controindicazione, nessun tipo di effetto collaterale e che quindi noi possiamo considerare laddove c'è stata una risposta positiva e poi per la normale diciamo evoluzione, una riduzione dell'effetto, poterla ripetere. Quindi questa è un'altra cosa che ci interessa sottolineare, nel senso la maneggevolezza di questo tipo di trattamento. Allora, passando alla parte pratica di come queste onde d'urto vengono eseguite, vi presento la macchina che utilizziamo nel nostro studio. È una macchina dotata appunto della fonte di energia e di un manipolo con cui noi andremo ad applicare le onde d'urto, questi simuli fisici, al pene del paziente. Il manipolo per essere attivato deve innanzitutto avere del silicone che funziona da trasduttore tra la generazione delle onde d'urto che arrivano alla base del manipolo e il trasmissore che è la parte di silicone che viene applicata al cuscinetto di silicone che viene applicato al pene. Questo viene fissato da questa ghiera di plastica. La parte di silicone che rimane esposta è la parte che viene applicata a livello del pene nelle zone che andremo a vedere. A questo punto il manipolo è sostanzialmente pronto. Bisogna andare a selezionare il programma di trattamento dalla macchina per la disfunzione rettile. Programma di trattamento che prevede delle frequenze prestabilite che possono andare da 0,1 a 0,25 mJ di energia e una frequenza che arriva fino a 3 Hz. Le impostazioni sostanzialmente sono standard. Partiamo sempre da un'impostazione al massimo della frequenza. Solo in caso in cui il paziente abbia un'eccessiva sensibilità si possono comunque ridurre i parametri. I colpi emessi per ogni sessione sono circa 3.000 e con questo settaggio la seduta di onde d'urto dura circa un quarto d'ora, 20 minuti. Nell'applicazione di queste 3.000 onde andiamo a stimolare con le onde fisiche diverse zone del pene. Si comincia appunto con applicare 1.000 onde d'urto alla metà alta del pene, 1.000 onde d'urto alla metà bassa del pene, quindi verso la radice, e le ultime 1.000 vengono divise in 500 colpi a destra e 500 colpi a sinistra alla radice dei corpi cavernosi in modo da dare uno stimolo lungo tutta l'estensione del corpo cavernoso per avere una stimolazione che va a coinvolgere tutta l'arteria cavernosa che origina dalla radice del pene fino ad arrivare appunto all'estremità. Durante il trattamento generalmente il paziente può avvertire una sorta di formicolio, di pizzicotto nella zona in cui viene applicata l'onda d'urto. Questa sensazione è generalmente ben tollerata, non c'è quasi mai nessuno che richiede la sospensione del trattamento durante la seduta e non richiede neanche una terapia antidolorifica post trattamento, quindi non ci sono limitazioni o preparazioni da fare prima delle onde d'urto e una volta passato il quarto d'ora in studio per il trattamento il paziente può tornare alla sua vita normale riprendendo attività fisica, sportiva, eventualmente anche attività sessuale se lo desidera ed è assolutamente libero fino al trattamento successivo. Generalmente si fanno 6 sedute di trattamento una settimana e che organizziamo solitamente sempre negli stessi giorni, quindi sempre il esempio sempre venerdì per dare una continuità di terapia. Ma quindi concludendo, questa terapia a onde d'urto è sicuramente una terapia innovativa che sfrutta le più attuali novità tecnologiche per quanto riguarda la disfunzione erettile. Rispetto alle terapie tradizionali, quelle un pochino più conosciute, ha indubbiamente dei vantaggi che poi andremo un attimino a elencare, ma non esclude le altre terapie, anzi le può affiancare e può migliorarne il risultato potenziandone l'attività. Quali sono quindi le caratteristiche principali di questa terapia? Innanzitutto è una terapia tollerata benissimo, queste onde d'urto non evocano dolore, non sono dannose per l'organismo e possono essere somministrate a qualunque individuo, anche individui con patologie particolari, possono essere somministrate ai diabetici, ai vasculopatici, non esistono delle controindicazioni assolute all'esecuzione di questa terapia. Quindi una terapia che noi possiamo effettuare a tutti, ma non la proponiamo a tutti perché ha delle indicazioni ben precise, cioè non è la bacchetta magica. Come funziona? Funziona migliorando la circolazione dell'organo. Quindi va bene in tutti i casi in cui il paziente non ha un'erezione completa a causa di un problema circolatorio, non di un circolatorio grave assoluto, ma di una forma medio-lieve e in questa categoria rientrano la quasi totalità, ad esempio, dei fumatori, dei soggetti con aterosclerosi, dei soggetti dislipidemici. Rispetto ad altre terapie che tendono a migliorare in modo transitorio solo la funzione sessuale, quindi che farmaci che vengono assunti solo in previsione di un rapporto sessuale, questo è un intento curativo. Cioè queste onde d'urto, attraversando i tessuti, creano quella che si chiama la neoangiogenesi, cioè si formano delle nuove vie arteriose, delle piccole vie arteriose, che migliorano la circolazione del pene, dell'organo, e quindi con l'andare del tempo possono risolvere in modo completo, si spera, la problematica dell'individuo. È ovvio che nei casi in cui la risoluzione non è completa, beh, possiamo sempre far ricorso affiancando questa terapia alle terapie consolidate, ad esempio i farmaci agli inibitori della fosfodiesterasi che favoriscono l'erezione. e si è visto che in molti casi in cui il soggetto prendeva il farmaco, l'inibitori della fosfodiesterasi, e non riusciva ad avere un'erezione completa, dopo un ciclo di questa terapia con onde d'urto, ha ricominciato a funzionare all'assunzione del farmaco. Non solo, ma altri che dovevano prendere dosaggi molto alti di farmaci con effetti collaterali, hanno potuto dopo questa terapia ridurre il dosaggio del farmaco. Quindi diciamo che questa è una terapia, non per tutti, che deve essere proposta al paziente con lievi deficit arteriosi che devono essere valutati da un'equipe specialistica. In modo particolare sono soggetti che devono avere eseguito quel famoso esame che ormai conoscono tutti che è l'ecocolordoppler dinamico pedieno che è quello in grado di evidenziare se esistono alterazioni circolatorie all'interno dei corpi cavernosi che, come abbiamo visto, possono provocare questi disturbi della reazione.